com'è com'è pane contato e siano peggiozze ma non sono fatto la casa ho finito adesso di farlo qua giam mucca Gimisenendi, olio, pomodoro, basilico e ariano, un po' di sale e l'aggiotto è fatta. Quagli ammucca, picciotti, una roba internazionale veramente. Buon pranzo a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao ciao. Per questo panino non ha sofferto nessun animale. Spero che qualche vegano non si incavola, diciamo, perché ho dato solo una pizzicata alla piantina di basilico, per togliere il basilico, una pizzicatina, poi il resto è venuta una favola, internazionale, guagli ammucca, picciotti, guardate che bello pomodoro, alla prossima.